Oggi proviamo due novità, la prima ve la dico subito, ovvero questa tagliata argentina con porcini e provola, iniziamo! Per prima cosa tagliamo i funghi a pezzetti, poi in padella mettiamo l'olio, uno spicchietto d'aglio diviso a metà, poi mettiamo i funghi, un pizzico di sale, pepe, pezzemolo, stendiamo e a piazzemolo molto alta, facciamo cuocere per circa 15 minuti, i porcini sono pronti, ora mettiamo sulla piastra rovente mentre coca e la facciamo cuocere un minuto e mezzo per lato, eccola qua, ora la tagliamo, facciamo un po' di spazio, mettiamo la carne, ci mettiamo sopra qualche frughetto, la provola o la scamorza, copriamo e facciamo cuocere per 3-4 minuti a fiamma bassa. E ora ecco la seconda cosa che volevo condividere con voi oggi, si tratta di Okta, Okta è un broker europeo autorizzato e strumento di investimento, con una piattaforma affidabile che uso anch'io, senza costi nascosti e commissioni. Con Okta riesco a diversificare in maniera semplicissima tutti i miei investimenti, se volete maggiori informazioni vi lascio tutto in descrizione, ora fatemi scappare perché la carne è pronta! eccola qua, conghetto, provola, carne, mamma mia!